Presidente, un tour rivolto al sociale. Sì, strutture diurne, una bellissima esperienza di un ristorante gestito con persone diversamente abili che trovano qui spazio per arredare con gli oggetti fatti da loro, per servire a tavola, per preparare il cibo. Veramente è qualcosa di straordinario, un modo di interpretare il rapporto con la dinamica sociale estremamente positivo. Da un mondo lontano passato in cui si stava relegati quasi in disparti, in uno stigma, diciamo nascosti come fosse un problema per una famiglia di avere un figlio disabile, ha la possibilità di avere esperienze che tirano fuori il meglio che ognuno di noi esprime e che i ragazzi riescono ad esprimere in questa struttura.